Come posso aver raggiunto più di 10.000 followers in 10 mesi senza pagare per farmi pubblicità, senza strani follow on follow in maniera completamente lecita, ma soprattutto gratuita, quindi organica? Alla fine di questo video saprai tutti i miei segreti. Ma prima non dimenticarti di iscriverti e schiacciare la campanella per essere notificato ogni martedì quando ti porto nuovi video per portare il tuo business al successo su Instagram. Andiamo al succo, come si possono raggiungere 10.000 followers organicamente, quindi gratuitamente su Instagram come ho fatto io. Partiamo dall'inizio. Regola numero uno, non devi puntare ai 10.000. Il mindset è ciò che tutti sottovalutiamo e che invece è la parte fondamentale per avere successo su Instagram. Se passerai le giornate a cercare di ottenere più followers, più commenti cercando di farti ricambiare i commenti e cercare sempre costantemente quei vanity metrics, probabilmente non succederà. Focalizzati invece su quelle pochissime prime persone che ti stanno considerando, che ti stanno mettendo quel mi piace, che ti stanno commentando. Senza andare a cercare il mondo che ti segua, cerca prima di servire quell'una persona e dagli il tuo massimo. Il tuo primo obiettivo non deve essere né vendere né crescere, ma aiutare. Quando ho iniziato a gennaio non avevo lo scopo di vendere immediatamente o di crescere immediatamente, ma di far capire alle persone che lavorare con Instagram offrendo un servizio è possibile, che non ti servono quei 10k per iniziare a vendere su Instagram e che non devi per forza essere un influencer o un plurilaureato per iniziare a offrire ciò che già sai, ma che ti basta avere delle competenze specifiche, personali o professionali e un metodo per poter effettivamente iniziare ad aiutare. L'ho dimostrato da subito attraverso contenuti di valore per istruire e educare sull'argomento senza volere nulla in cambio. Ho creato il mio primo freebie per capire se ciò che stavo offrendo era veramente utile a qualcuno per avere un primo feedback e ho iniziato a rispondere a qualsiasi domanda attraverso un post, attraverso un video, attraverso qualsiasi cosa da quelle pochissime persone che iniziavano a darmi fiducia e seguirmi. Non mi sono messa a fretta perché avevo fretta di vendere, perché volevo lasciare il lavoro, non mi sono messa a fretta di spingere le persone a comprare un servizio che non sapevo neanche io ancora effettivamente se aveva valore. Siamo tutti nella stessa barca, abbiamo tutti bisogno di vendere, abbiamo tutti bisogno di creare un business che sia sostenibile. È un business che non fa soldi, semplicemente è un hobby, non è un business. Ma questo non vuol dire che avere fretta ti porterà a raggiungere i tuoi obiettivi e anzi, se hai la pazienza e la costanza di ascoltare e di iniziare da zero invece di pretendere subito un compenso per qualcosa che non hai ancora comprovato, ecco che lì ti si apriranno tante porte. Se proverai a vendere spudoratamente, ecco che tutte le porte ti saranno chiuse perché nessuno si fida di te, si vede se stai cercando di vendere e non di aiutare e questo fa tutta la differenza del mondo. Ricordo ancora con enorme affetto il nome di tutte le persone che sono state le prime a commentarmi, a fidarsi di me, a farmi domande e a darmi fiducia perché quelle persone sono quelle da cui è iniziato tutto e aiutandole sono riuscite poi ad arrivare ad altre persone perché loro mi suggerivano o inconsciamente commentando riuscivano a portarmi a farmi vedere da molte più persone e soprattutto lo hanno fatto grazie ai loro commenti genuini. Io non volevo niente in cambio, loro non volevano niente in cambio, io stavo aiutando loro e loro stavano aiutando me e la legge della reciprocità e funziona alla perfezione. È fondamentale capire che arrabbiarti perché quella persona non ti ricambia il segui o pretendere i commenti non ti porterà da nessuna parte e proprio quando cambi quel mindset e inizi a capire che tutte queste cose te le deve meritare, in ogni singolo post ti devi meritare il commento, per ogni singola cosa che fai ti devi meritare qualcosa in cambio senza doverlo chiedere, ecco che cambieranno anche i tuoi risultati. È importante e fondamentale capire che partiamo tutti da zero, anche chi ha un business super attivo offline, online se parte dall'inizio parte da zero e tutto quello che ti spetta te lo devi meritare giorno per giorno. Seconda cosa fondamentale per iniziare il tuo processo verso i 10k followers, quindi i 10.000 followers è avere una nicchia. C'è un motivo se lo torino che si occupa di una piccolissima parte del corpo è pagato molto di più del medico di famiglia, è specializzato in un settore specifico e un'autorità in quel settore. La specializzazione è fondamentale per diventare un'autorità nel tuo settore e crescere velocemente online. Come ti spiego in questo video fondamentale da vedere se ancora non hai trovato una tua nicchia. Questo vuol dire che tutti i tuoi contenuti devono essere dedicati a una persona specifica, il tuo cliente ideale. E il tuo cliente ideale non possono essere tutti, deve essere una persona specifica. Ricordati che la maggior parte delle volte la tua nicchia sei tu. Pensa a te qualche scalino più indietro, alla te di qualche anno fa o al te di qualche anno fa. Pensa a qualcosa che hai dovuto affrontare o superare tu stesso in campo lavorativo, professionale o personale in cui al momento puoi aiutare perché sei già due scalini più avanti. E cerca di aiutare non quelle persone che sono al tuo stesso livello ma quelle persone che sono due scalini più in basso di te che sono dove eri tu magari due anni fa, tre anni fa e che puoi aiutare a salire quei due gradini. C'è una specifica persona, una con degli obiettivi e delle difficoltà specifiche che puoi aiutare alla perfezione con quello che hai vissuto e con quello che sai. Aiuta lei. Non ti fare distrarre dagli oggetti luccicanti, non ti fare distrarre da a potrei fare anche questo, anche quest'altro, c'è questa persona che si sta occupando anche di questi, allora anch'io li voglio come clienti. Questa è la cosa peggiore che tu possa fare anche se sembra la migliore e tutti pensano che aiutando tutti a 360 gradi si avrà più successo e si avranno più clienti. È effettivamente l'opposto. La cosa più sbagliata che puoi fare è cercare di parlare con tutti. Questo ti porterà definitivamente a non parlare con nessuno. Le persone non avranno idea esattamente di cosa ti occupi, sarà difficile per loro da capire e quindi ti occuperai di tutto e di niente e le persone passeranno alla prossima persona più precisa e più specifica che invece parla esattamente al loro cuore. Perché? Perché semplicemente è più facile e chiaro associare quella persona a un obiettivo specifico da raggiungere. Esempio, Laura ti aiuta, a te venditore di servizi, a ottenere clienti attraverso Instagram in maniera completamente organica e gratuita, con zero sponsorizzazioni. Lo sai alla perfezione, Laura uguale Instagram. Quindi metti il tuo nome, metti un uguale, qual è quell'una cosa, non un argomento, un obiettivo principale che puoi aiutare a raggiungere. Andiamo poi a uno dei punti più sottovalutati e più importanti di tutti, il punto 3. Scegliere il progresso invece della perfezione. Se un guru ti sta dicendo che la crescita è costante, che non perdono mai followers, che sono sempre in salita, ti stanno mentendo. Tutti abbiamo degli alti e bassi su Instagram, anche se nel grafico la salita sembra perfetta e lineare così. Anche con un profilo che sa esattamente cosa sta facendo, ci sono degli alti e dei bassi. Ci sono settimane di picco e settimane di down totale. O settimane in cui escono delle novità su Instagram che ancora non hai appreso a pieno, che stai sperimentando e quindi non sai ancora bene cosa stai facendo. Settimane in cui perdi followers e non stai per niente ottenendo i risultati che vorresti. Gli alti e i bassi fanno parte del gioco e bisogna imparare ad accettarli. La settimana prima di questa esplosione stavo facendo pena. Il mio engagement non è mai stato così basso. Continuavo a perdere e guadagnare followers stando principalmente in una situazione di stallo e non riuscivo a capire come migliorare. È il caso di deprimersi e archiviare ogni reel o post della vergogna? Assolutamente no, personalmente non ho mai archiviato niente. Sono tutti esperimenti, ogni singolo post, ogni singolo reel deve essere visto come un esperimento. Ce ne saranno alcuni che vanno benissimo, alcuni che vanno così così e alcuni che vanno male. Ma come esperimenti devono essere visti per riuscire ad analizzarli e capire effettivamente come migliorare. E questo mi porta al punto quattro. Se stai avendo successo ma non sai com'è successo, non è successo niente. Questa è una frase che mi è stata detta da uno dei miei più grandi allievi a cui sono più affessionata che è Gianni, che saluto. Ha detto questa frase bellissima che mi è rimasta impressa, non so da dove arrivi, ma è assolutamente vera ed è perfetta per questa nostra quarta fase. Non puoi aspettarti di capire come rialzare l'engagement o come crescere se non hai idea di cosa stai facendo. Se non hai un metodo specifico e se non analizzi settimanalmente cosa è andato bene, cosa no e perché. Se stai aumentando di followers ma non sai bene cosa è successo o se stai diminuendo di followers e non hai idea di cosa sia successo, non è successo effettivamente niente perché non sai come aggiustare il tiro o come riprenderti come hai fatto l'altra volta quando vai giù. L'analisi dei dati ti permette di capire se quella settimana è andata bene, perché e come replicarla. E se è andata male perché è andata così male, cosa ho fatto che non ha funzionato, cosa posso fare per migliorare, andiamo a vedere quella settimana in cui sono andata molto molto bene, cosa è successo, ok proverò a replicare questa cosa per vedere se questo mi porta a una risalita. Che è esattamente ciò che mi ha permesso di ottenere più di 2685 account, occhi, sul mio account in una sola settimana. Ma prima dimmi, tu analizzi i tuoi dati e se lo fai, lo fai settimanalmente o mensilmente? È molto importante che mi risponda a questa domanda perché se l'analisi dei dati ti sembra una perdita di tempo non potresti essere più intorto e sappi che questo è quello che cambia veramente le regole del gioco e può portarti qui, analizzare e capire cosa funziona e cosa no per poter aggiustare il tiro. Tra poco arriva il trucco segreto che mi ha portato a 10k in 10 mesi, ma andremo prima al punto 5. L'ascolto. Il pezzo mancante della maggior parte degli account che stanno facendo fatica a crescere, l'ascolto. Puoi analizzare tutto ciò che vuoi e avere la nicchia perfetta. Se non ascolti quello che il tuo cliente ideale ti sta chiedendo, anche quell'una persona che è interessata, e gli dai esattamente quello che ti sta chiedendo, rispondendo alle sue domande, non arriverai mai da nessuna parte. Mi sento dire Laura, ma parlano tutti di questo argomento, non voglio sembrare banale ed è importantissimo capire invece che la differenza sta proprio lì. C'è una distinzione tra argomenti di cui parlano tutti e essere banale. Il fatto che tutti stanno parlando di questo argomento vuol dire che l'argomento è interessante per il tuo cliente ideale e che il tuo cliente ideale ti sta richiedendo di parlarne. Il fatto di sembrare banale, certo che sembri banale se copi gli altri e i propri contenuti. La differenza sta proprio nello spiegarlo, spiegare questo nuovo argomento o estruire su questo argomento che sta andando in voga, come solo tu puoi fare. Quindi se un argomento è interessante ed è famoso e popolare in questo momento è bene che lo tratti anche tu, ma non vuol dire che devi essere un clone di tutti gli altri e questo mi porta al prossimo punto. Il punto 6 differenziarsi dalla massa, un altro punto fondamentale che mi ha portato a essere qui oggi. L'unica cosa che è di diverso da tutti gli altri competitors sei tu. Si hai capito bene, solo tu sei tu, solo tu hai la tua voce, la tua personalità, la tua storia personale, il tuo modo di spiegare, il tuo modo di parlare. Ci sono persone che ti odieranno per questo e persone che ti adoreranno per questo. L'unico modo di fare la differenza e differenziarti dalla massa e non cercare di essere la massa, cercare di distinguerti parlando come solo tu sei fare, facendoti anche giudicare da quelle persone che tanto non sanno ascoltare per farti ascoltare invece da quelle persone che non vedono l'ora di sentire il tuo parere e di sapere come spieghi tu questa specifica situazione, questo specifico argomento. Copiare i reel di un'altra persona non ti porterà ad avere successo come lei, copiare tutti i miei reel non farà esplodere i tuoi reel. Per questo, per quanto provi a fare gli stessi reel che stanno esplodendo un'altra persona, per te non sta funzionando. Tu non sei quella persona. Smettila di copiare ogni cosa che vedi su Instagram per avere successo e inizia a dire la tua verità, a spiegare solo come tu spieghi e a dire quello che pensi anche e soprattutto se è diverso da tutti gli altri. Quando ho iniziato come Instagram coach mi giravo intorno e tutti parlavano di come arrivare ai 10k. Mi sono guardata intorno e ho detto un attimo, secondo me arrivare ai 10k non ha importanza, non è questo l'importante. L'importante è acquisire clienti e questo lo puoi fare molto più velocemente che arrivare ai 10k. Per la cronaca io sono arrivata ai 10k adesso e ho già più di 100 clienti che ho iniziato ad avere quando avevo 500 followers. Quindi dall'inizio ho iniziato a smontare questo falso mito dimostrando coi fatti che non c'è bisogno di avere 10k per ottenere clienti. E ho spiegato la mia realtà dei fatti e ti ho dimostrato quello che si può fare anche se non hai i 10k, nonostante stessi andando controcorrente. La mia missione è ed è sempre stata mostrare la realtà dei fatti del mondo online, di come si può lavorare attraverso Instagram tangibilmente e di come io ti posso dimostrare che si può fare attraverso di me e i risultati delle persone che si sono messe in gioco con me. E ora una delle mie nuove missioni è farti capire com'è davvero la vita del lavoro improprio. La tua missione qual è? È importante averla chiara ed è importante sempre dire la tua verità anche se va controcorrente perché questo è quello che ti differenzierà dalla massa, la tua specifica missione data dalla tua storia personale e la tua professionalità. Quindi come vuoi differenziarti da tutti gli altri? Qual è la tua missione? Andiamo poi al punto 7. Non aggiustare ciò che non è rotto. Se hai trovato un nuovo metodo che funziona alla grande per te, non farti distrarre dagli oggetti luccicanti e cercare a fare nuovi fribi mensili, nuove cose che sono completamente diverse da quelle che fai di solito, ma continua a fare ciò che funziona. Mantieni un metodo e focalizzati su quello nel lungo termine. Da quando ho iniziato a oggi ho tre strategie per aumentare specificamente follower e avere più occhi sul mio account e sono quelle dall'inizio dei tempi. 1. Avere contenuti di valore come ti spiego in questo video nel dettaglio. 2. Freebie mensile che mi aiuta a farmi taggare e raccomandare a altre nuove persone ogni volta che raggiungo un tot di nuovi followers. 3. L'interazione efficace che ti spiego in quest'altro video. Se funzionano perché cambiarle? Instagram è in costante cambiamento ed è importante aggiornarsi, ma questo non vuol dire cambiare il metodo ogni mese, anzi questo è proprio quello che ti va a danneggiare, non mantenere un metodo per il lungo termine per capire se effettivamente funziona per te. La realtà dei fatti è che per quanto Instagram si aggiorni con i Reels, con le live programmate e tutte le novità, se hai un buon metodo e una buona strategia quelli rimangono tali e verranno semplicemente adattati alla nuova feature. Infine, ecco il mio enorme segreto che mi ha portato ad acquisire più di 2000 followers in una sola settimana. Il punto 8. Non sottovalutare i Reels. Ebbene sì, se ai primi mesi non stavo molto considerando i Reels e non li avevo neanche considerati per la mia strategia, ad oggi i Reels sono quelli che mi hanno fatto arrivare qui. Sembra assurdo ma avevo appena dimostrato pochissime settimane fa come un Reel di qualità ti portasse esponenzialmente a crescere in maniera molto più esponenziale rispetto a due Reel al giorno tutti i giorni come consigliavano alcuni guru. O come fare buoni Reel di qualità facesse molto di più di sponsorizzare e buttare soldi inutili dalla finestra quando non è ancora ora di sponsorizzare. E ora ne ho ancora più le prove tangibili. Le due settimane in cui ho sperimentato e ho fatto due Reel al giorno tutti i giorni è stata un estremo disastro. L'engagement è stato il più basso di sempre. Ero a corto di idee, a corto di contenuti, a corto di fantasia e effettivamente stavo iniziando a odiare i Reels. Ed era faticosissimo stare al passo con tutti. Quando ho smesso di ascoltare le varie strategie e sono andata di pancia, ho iniziato a fare i Reel con la qualità che volevo avessero, trasmettendo la mia verità e raccontando la mia storia, ecco che tutto è cambiato. Ho creato Reels che ritenevo di valore con i miei ritmi e con i miei tempi. Quindi postandone tre a settimana, quattro al massimo. Tutti i Reels, doveva essere di estremo valore. Ho iniziato quindi a non fare neanche più batch content quando si tratta di Reels, perché poi diventavano per me datati, se li lasciavo in bozze, e non mi veniva neanche più voglia di postarli. Quindi adesso ne faccio massimo due per la settimana stessa. Ne creo due alla volta e basta. Ed ecco che è bastata l'esplosione di un Reel che ho fatto di pancia, seguendosi un trend da TikTok, neanche dai Reel, che prima è esploso su TikTok in cinque giorni. E questo è stata la mia lampadina, perché so che ogni volta che un Reel va bene su TikTok, deve essere trasportato anche su Instagram, perché di sicuro va alla grande. Nel 99% dei casi, nella mia situazione specifica, è stato così. Quindi l'ho trasportato sui Reel e dopo sette giorni del Reel che stava andando normalmente, ricordatevi che i Reel esplodono in una, due settimane, ecco che questo Reel mi ha portato da poco meno di 8.000 followers a più di 10.000 followers, 10.600, in meno di una settimana. Con una crescita del 28.91% nel giro di sei giorni, una cosa mai vista prima, un Reel. Tutto questo pagando zero in sponsorizzazione. E questa non è la prima volta che succede, è successo in maniera così esponenziale solo questa volta, ma ho avuto altri singoli Reel, sempre presi dai TikTok, che sono esplosi a 300.000 visualizzazioni. Ma le visualizzazioni non sono quello che contava. Quello che conta è che le persone che guardavano questi Reels hanno iniziato a seguirmi, hanno iniziato a interessarsi e io ho avuto moltissimi più occhi sul mio account, moltissime persone iscritte alla mia masterclass gratuita che si interessano di ciò che faccio, di cosa insegno e cercano di capire se quello che offro gli interessa davvero. Quindi persone in target, non persone a caso. Il 28.91% di crescita rispetto alla settimana prima è una roba gigantesca, solo grazie a un Reel. Sicuro di volerli sottovalutare? Ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile senza una strategia e un metodo passo passo a supportare tutti questi miei esperimenti e il mio intuito. Ma non ti preoccupare, questo metodo e questa strategia te li offro anch'essi gratuitamente nella mia masterclass gratuita di 90 minuti. Ti lascio il link in descrizione, tutto quello che devi fare è lasciarmi la tua email e il tuo nome per essere invitato alla masterclass, ma sbrigati e a posti limitati dove ti insegno il mio metodo step by step, questa volta non per arrivare ai 10k, ma per acquisire clienti in target e reali su Instagram. Fammi sapere se questo video ti è piaciuto, se ti ho lasciato delle domande o delle perplessità, non vedo l'ora di fare altri video a riguardo, quindi chiedimi quello che vuoi, non dimenticarti di iscriverti e schiacciare la campanella se non l'hai ancora fatto, così da vederci il prossimo martedì sempre su questo canale. Ciao!